Ci siamo raga, è arrivato il momento di un nuovo video haul! Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Martina e oggi vi farò vedere tutto quello che ho preso sul sito Shane. So che è un genere di video che vi piace molto perché ogni volta che mi vedete con qualche busta in mano su Instagram Stories, mi dite sempre Marti, mi raccomando, facci l'haul! Quindi oggi vi accontento e vi mostro tutto quello che ho preso. Colgo l'occasione per fare gli auguri a Shane che compie 10 anni e per l'occasione mi ha dato un codice sconto per voi che vi lascio giù nell'info box. Quindi controllate sempre l'info box perché vi lascio sia il codice sconto che tutti i link dei capi che vi mostrerò in questo video. Inoltre Shane ha anche un'app che potete scaricare sia su Apple Store che su Google Play ed è molto semplice, funziona in questo modo. Basta che ad esempio scegliete un articolo, lo aggiungete al carrello, andate alla cassa, inserite tutti i dati e poi potete inserire il codice promozionale appunto in questa sezione che io vi lascerò come vi ho detto prima giù nell'info box. Ma adesso è arrivato il momento di mostrarvi tutto quello che ho preso. Partiamo con questo blazer rosa molto molto carino con la manica ricciata, somiglia molto a quello che c'era da Zara un po' di tempo fa e vabbè a parte che bisogna dargli una stirata però lo trovo veramente magnifico con un top sotto semplice e anche un total black. Il secondo capo che vi mostro è questa gonna, io ho preso una S ma calza veramente poco quindi vi consiglio di prendere una taglia in più. È molto carina con questi volant, il tessuto è abbastanza elasticizzato e vi fa un bel sedere. Poi ho preso questa camicetta con questi volant molto molto carini che continuano anche dietro. Me lo aspettavo di un tessuto diverso ma in realtà non mi dispiace affatto perché almeno tiene più caldo d'inverno. Poi ho preso questa giacca vestito che pensavo fosse un vestito ma in realtà c'era scritto giacca però io ho detto vabbè io lo prendo e lo uso come vestito. L'unica cosa è che è un po' corto quindi bisognerebbe indossarlo con un pantalone di quelli a vita alta, shorts. Comunque mi piace anche molto la fantasia con questi scacchi. Ho anche un cappotto così che ho sempre preso su Shane l'anno scorso. Questo ragazzi è il pezzo forte, questa tuta, questa tuta è bellissima ragazzi. Cioè io non ho parole per descrivere la bellezza di questa tuta, cioè allora a parte che veste benissimo io ho preso una S o XS, non mi ricordo, oddio, XS. Io ho preso un XS ma raga è una cosa spettacolare, cioè le immagini parlano da sé, vi lascio scorrere le immagini così la vedete meglio. Ma è veramente meravigliosa con queste maniche lunghe e non lo so, cioè è meravigliosa, non so come descrivervela. Quasi dimenticavo, ho preso su Shane anche questo maglioncino qua che mi vedete indossare con queste maniche a campana. Mi piace molto ma dalle foto sembrava di un altro colore. È taglia unica quindi io ho vestito una 40 e va bene. Molto carino, peccato che è un po' largo in vita, l'avrei preferito più stretto. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, in caso lasciate un mi piace. Fatemi sapere giù nei commenti se volete un altro video haul ad ottobre perché avrei del materiale. Quindi lasciate un commento se volete il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!